L'azienda inizia molto molto tempo fa con mio nonno, era un raccogliatore di tartufi, andava a tartufi per bisogno più che altro. A sua volta mio papà, vedendo questa cosa a cui piaceva tanto, ha iniziato a includere le tartufi. Nello stesso periodo, avendo avuto ottimi risultati nella ricerca, ha detto dentro di sé ma perché non mi metto a vendere i tartufi anziché coglierli, solo cercarli. Ed è iniziata l'azienda, anno dopo anno. E dopo 40 anni subentro io al suo posto. Ovviamente la mia esperienza risale da tanti anni indietro, in quanto da quando avevo 15 anni ho iniziato a fare le prime compere di tartufo e da lì ho appreso tutto ciò che mio padre, il territorio, la conoscenza del tartufo generale mi ha dato. E in questo contesto sono riuscito a portare una piccola azienda a dei livelli di qualità abbastanza pregevoli, sia per quanto riguarda il territorio di Pergola, sia per quanto riguarda la mia azienda. Parliamo di Pergola e il suo bellissimo e grandissimo territorio. A Pergola si è sempre raccolto e ricercato il tartufo. La caratteristica del tartufo di Pergola è questo, che presenta molti sfaccettature del territorio, quindi possiamo trovare tartufi in terreni argillosi, in terreni sabbiosi o di medio impasto. La caratteristica principale di fuori tutto è che è un tartufo di ottime qualità, che comunque sia il territorio, ci permette di avere un prodotto di ottima qualità che portandolo sul consumatore finale, quindi a chi degusta questo fantastico prodotto, ne garantisce al massimo la sua bontà. Questa è una cosa molto importante per Pergola, che comunque sia rappresenta qualcosa di dominante, che ci permette di portare sia in Italia, che in Europa, che nel mondo, questo preziosissimo prodotto, che sarebbe un fungo, e di gustarlo in tutto il mondo. Una cosa da non tralasciare e molto importante è il legame, quello che si crea tra una persona e il cane da tartufo. È un legame molto forte, dove ovviamente il cane fa di tutto per cercare di far contento il suo padrone. Ovviamente il padrone deve sempre dare una ricompensa al cane e questo rapporto è molto forte, perché nell'ambito della ricerca è molto divertente sia per il cane sia per il padrone, dove praticamente vedendo che il cane scava, lui riceve una ricompensa, c'è una gioia reciproca, e quindi tra loro due ci sarà sempre amore, tra virgolette. Penso che la natura piaccia un po' a tutti. Andando a tartufi con i cane, oppure anche facendo una semplice passeggiata, una cosa bella è stare in mezzo alla natura, respirare aria fresca, vivere le emozioni che ti può dare la natura, e ovviamente anche il discorso del tartufo, nel senso che l'emozione di vederlo e di sapere che in quel posto nasce un tartufo, e non sapevi nemmeno che cresceva, e quindi un'emozione forte e quindi sempre un piacere stare nel bosco e fare una bellissima passeggiata, sempre con il cane oppure anche da soli. La frase che mi rappresenta di più è qualità e serietà. Qualità prima di tutto perché il cliente deve essere sempre contento e soddisfatto. Serietà, quindi precisione sul prodotto, su qualsiasi cosa sia nella ricerca, sia nella vendita, sia nella raccolta, in tutto ciò che comprende il mio lavoro. Qualità è sinonimo di garanzia, la garanzia è qualità. Grazie a tutti.